Due milioni di metri cubi di acqua e refue trattate dal depuratore di Sciacca saranno destinati ad uso irriguo. È la decisione assunta ieri presso l'assessorato regionale all'energia e servizi di pubblica utilità durante un tavolo tecnico promosso dall'assessore Roberto Di Mauro e al quale hanno partecipato i vertici della protezione civile, del Dipartimento Agricoltura, del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, il commissario unico alla depurazione e ai vertici di Ati e Aica. Durante il tavolo tecnico è stato dato mandato al Consorzio di Bonifica di predisporre un piano tecnico di fattibilità economica per la realizzazione di una condotta per il trasporto dell'acqua refua depurata in uscita dal depuratore di Sciacca verso una vasca per l'irrigazione nei pressi dell'Aguarancio. Il depuratore di Sciacca, dotato di moderne tecniche di depurazione e di sistema di trattamento reflui efficiente ed evoluto, garantisce quasi il 100% della depurazione delle acque reflue in entrata, fornendo circa 1.900.000 m3 all'anno di risorsa idrica. Tali acque, fino ad oggi inutilizzate, al termine degli interventi pianificati potranno essere impiegate per uso irriguo, dando significativo sollievo al settore agricolo del circondario di Sciacca e garantendo anche un'importante razionalizzazione delle risorse. Il progetto sintesi dell'azione sinergica tra Assessorato regionale, Consorzio di Bonifica e AICA rientra fra le misure volte ad affrontare l'emergenza idrica che ha colpito il territorio agrigentino.